ciao amici vi piace il pompelmo lo mangiate spesso prima di proseguire con il video fatemelo sapere nei commenti qui sotto vale anche il succo solo se lo fai tu spremendo il frutto il pompelmo è un agrume con moltissime proprietà perfetto per la dieta vediamo insieme 10 benefici e proprietà del pompelmo se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine c'è un regalino per voi il pompelmo è ricco di fibre flavonoidi vitamine a b c e pectine spesso utilizzato nelle diete dimagranti aiuta a diminuire l'assorbimento dei nutrienti ingrassanti ecco le proprietà del pompelmo apparato digerente è utile in caso di infezioni e disturbi dell'apparato digerente consumato a fine pasto stimola la secrezione di succhi gastrici e grazie alla presenza di fibre favorisce la digestione delle proteine anti insonnia è un'ottima fonte di triptofano quindi si può bere un bicchiere di spremuta dopo cena per conciliare il sonno diabete è un utile alleato contro il diabete grazie ai flavonoidi che regolano la glicemia salute del colon la pectina contenuta in questo agrume difende la mucosa del colon e lo protegge da infiammazioni e altre malattie colesterolo la pectina aiuta anche a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue occhi e vista grazie agli antiossidanti aiuta a mantenere in salute gli occhi e la vista sistema immunitario la vitamina c rinforza il sistema immunitario e protegge dalle infezioni il succo di pompelmo è un ottimo aiuto anche per abbassare la febbre prevenzione dei tumori il licopene è un antiossidante presente soprattutto nel pompelmo rosa è molto utile contro il tumore alla prostata dimagrire il pompelmo diminuisce l'appetito e mangiato a fine pasto accelera la trasformazione di grassi in energia ha anche una funzione diuretica aiuta a combattere cellulite e ritenzione idrica e a depurare il fegato e l'apparato urinario io ho sentito parlare di semi di pompelmo hanno gli stessi benefici vediamoli insieme l'estratto di semi di pompelmo è efficace contro funghi micosi e batteri protegge la flora batterica intestinale buona cioè il microbiota stimola il sistema immunitario e contrasta l'invecchiamento cellulare senza effetti collaterali non basta masticare qualche semi di pompelmo mi riferisco alla sostanza concentrata ho parlato dell'estratto di semi di pompelmo in questo video bene amici oggi abbiamo visto le proprietà e i benefici del pompelmo commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche ed ecco il mio regalino di oggi la checklist dei 10 migliori cibi detox da avere sempre in casa che potete scaricare gratis dal link in descrizione qui sotto vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di simona vignali